8 personalità del rap italiano si stanno per sfidare al nuovo PES 2015 su PlayStation 4 e come in ogni sfida che si rispetti ci saranno delle assegnazioni che farò direttamente io PES con i campioni di tutta la scena Fratam piglio tre punto in fronto con monavola ieri sera Senti come suona tra New Generation Ti batto al novantesimo poi spegni la PlayStation Senti questa cosa nel dubito forse a PES Piego ENSI subito Il campo è nostro, fra te non c'è questione Il campo è vostro, però io ho portato il pallone qui Chi sta in porta non ci puoi vedere in porta Ci sta i tuoi comandi, solo il portiere Bella, un saluto alla community di PlayStation Network Questa è Ensi un saluto agli amici di PlayStation Network Un saluto alla community di PlayStation Network Un salutissimo alla community di PlayStation Network Un saluto a tutti i PT Pienzzo a tutti iubi fai Dunno all this Questa è un saluto